Vilutensi l'abbiamo certo, soprattutto, prima di tutto non è nuovo come fornitore per noi perché noi abbiamo già una macchina Vilutensi già da 15 anni, con la quale siamo trovati molto bene sia con il servizio e sia con la qualità della macchina stessa. Abbiamo fatto una scelta di un'azienda. L'ulteriore vantaggio sicuramente è la manutenzione, in 4 anni abbiamo fatto soltanto manutenzione ordinaria. A livello servizio, a livello qualitativo, a livello rapporti interpersonali, per cui abbiamo scelto la direzione. Poi sappiamo ed è conosciuto nel mondo della fonderia, sia tramite le fonderie e tramite anche concorrenti stampisti, che hanno macchine Vilutensi che sono molto soddisfatti di questo prodotto, di conseguenza ci siamo orientati nella scelta di una macchina Vilutensi di grosse dimensioni, con la quale abbiamo avuto la prima esperienza da 6 mesi a questa fase con degli ottimi risultati.